Signore e signori, buonasera e benvenuti. Mesdames e messieurs, bonsoir e benvenuti. Questa sera siamo alla conclusione di un progetto con dei ragazzi provenienti da tutta Europa. Il progetto in questione è iniziato a settembre del 2022 e nelle proprie città francesi, belghe e rumene e italiane naturalmente, tutti hanno iniziato a lavorare su quelli che sono gli stereotipi di genere e non solo. Questa realtà nasce da un incontro qui a Cagli dal 16 di agosto dove i vostri ragazzi sono arrivati e fino ad oggi hanno vissuto insieme questa esperienza con coriografi provenienti da tutta l'Europa. Oggi, qui siamo alla clottura con tutte le figli e i ragazzi che sono arrivati qui sui posti per lavorare al progetto, qui a Cagli. Oggi, qui siamo arrivati qui sui posti per lavorare al progetto, qui sui posti per lavorare al progetto, qui sui posti per lavorare al progetto. Partirono all'alba incrociata i bambini, le facce gelate, chi li troverà? Partirono in fila, sepolti di neve, i soli scampati alle bombe e dai soldati. Volevano fuggire dagli occhi la guerra, volevano fuggirla per cielo e per terra. Un piccolo capo, la pena nel cuore, provava a guidarli e la strada non sapeva trovare. Una bandina di undici e una di quattro, come una mamma, portava per mano. Ed un piccolo musico, colso da un muro, batteva sordo al timore di farsi trovare. E poi c'era un cane, l'ha morto di fame, che per compassione nessuno ammazzò. E si faceva scuola, tutti alla pari, si lavavano maestri scolari. Via G. C'è la fede e speranza ma né pane né carne Non chiamate ladro chi deve rubare Per dare alle bocche di cosa mangiare Farina ci vuole e non solo bontà Si persero in tondo del freddo di neve Nessuno più vivi li pote trovare Sontanto il cielo li vede vagare nel cerchio Dei senza me, dei senza patria E cercano insieme una terra di pace E non come quello che hanno lasciato Senza fuoco e ruvino Piccolo solo ed immenso Dentro di loro diventa il cordero E non come quello che hanno lasciato E non come quello che hanno lasciato Il cane nel bosco è trovato una sera Al collo portava un cartello con scritto Qualcuno ci aiuti abbiamo perso la strada Seguiti il cane vi prego non gli sparate La scritta infantile trovò un contadino Ma non la mano che l'ha traggiò Un anno è passato e nessuno è venuto Il cane soltanto è restato a morire di fame Il cane soltanto è restato e si muore di fame Il cane soltanto è restato e si muore di fame Il cane soltanto è restato e si muore di fame Il cane soltanto è restato e si muore di fame Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Yeah. Yeah. Grazie. Grazie. Yeah. 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 No 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 Yeah. 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 Sì 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 Grazie a tutti 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 Il suffit d'écouter les femmes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Non saranno più divisi per provenienze, bensì abbiamo costituito dei gruppi dove i giovani hanno lavorato indipendentemente dalla loro provenienza, quindi tutti insieme. La seconda parte è stata costruita con i giovani che si sono messi in loro gruppi, così avrete il piacere di vedere sulla scena dei giovani francesi, con i belgi, con i romani, che danzano la stessa parte, coreografata dai professori. Anche gli insegnanti hanno lavorato in maniera coordinata, ogni gruppo era coordinato da due o tre coreografi e pertanto tutto quello che vedrete nei prossimi 30 minuti, così vi anticipo anche quello che dura in modo tale che non abbiate sorprese, è fatto assolutamente da tutti quanti insieme. 8 coreografi, 32 ragazzi, tutti che hanno lavorato 10 ore al giorno per ben 7 giorni. Di che cosa parla la seconda parte? Allora, nella seconda parte, voi vedi che i giovani che hanno stato coreografato da 8 coreografi, ma tutti messi, anche i coreografi hanno lavorato insieme nella stessa parte. E nella seconda parte vedrete l'esaltazione e diciamo ciò che noi intendiamo di stereotipo, sul discorso stereotipo. Ci siamo rifatti, grazie suggerimenti appunto collettivi, alle tre scimmie, non vedo, non sento e non parlo. La seconda parte è il clou dei stereotipi e i giovani parleranno dei tre singe sages, non vedo, non sento e non parlo. Buona seconda parte. Grazie. 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 Grazie.